Grazie a tutti. Ci vediamo l'anno prossimo. Sapete che di solito comincio a parlare di piramidi? Non per la storia, ma per il nostro presente e il nostro futuro. Siamo stati programmati a pensare che le piramidi sono state costruite per i loro uomini. Per fare i cadaveri, re o faraoni in Egitto, o per fare i sacrifici umani in Centro-America. Le piramidi sono costruite per durare per sempre, per migliaia di anni, e per essere di servizio alle comunità di esseri viventi. La conoscenza, il sapere sulle piramidi può cambiare la nostra società. E quasi tutto quello che ci insegnano sulla nostra storia antica è sbagliato. Secondo Wikipedia, è un sito web non scientifico e completamente controllato. Ci sono 118 piramidi in Egitto. Io ne ho indagate circa 155. Non c'è una mummia in nessuna di queste piramidi. Queste sono le più splendide piramidi d'Egitto, quelle del plateau di Giza. Cheops, Kefren e Micerinos. La piramide di Cheop è di Kefren e di Micerino. Non possiamo capire, guardando dall'esterno, chi le ha costruite. All'interno ci sono dei passaggi magnifici. Ma non ci sono decorazioni. Le camere sono vuote. Non ci sono arredi reali. Nessun geroglifico. Nessun simbolo. Nessun materiale organico. Nessun materiale organico. Nessuno strumento. Non c'è una singola prova di chi, come e perché le abbia costruite. Il tempo ci dimostrerà che quello che sostengono gli egittologi sulle piramidi come tombe dei faraoni è la più grande frode della storia. La grande piramide d'Egitto. 231 metri di lunghezza alla base. Raddoppiandola a 462. Diviso per l'altezza. 147. Il risultato è 3,14. Il numero pi. Ufficialmente questo numero sarà noto alla comunità al mondo nel XVII secolo. 400 anni fa. Ufficialmente si dice che questa piramide è stata costruita 4,500 anni fa. Ma è stata costruita in tempi molto più antichi, più di 30.000 anni fa. I costruttori conoscevano il numero pi greco. E poi il fi, la sezione aurea. 1,168. In questa piramide è stata incorporata la distanza tra il nostro pianeta e il Sole. Tra il nostro pianeta e la Luna. Gli antichi egizi non avevano queste conoscenze. Ma quando andiamo a visitare i musei in Egitto e ci fanno vedere degli strumenti di rame primitivi e strumenti in legno cercano di convincerci che tutto questo fosse quello che era necessario per costruire quello che vedete. Il documento egizio più importante si trova a due ore da qui nel Museo Egizio di Torino è la lista dei re di Torino è arrivato a Torino 200 anni fa dal Consolato Francese in Egitto Torino quel tempo era francese ha una lunghezza di 5 metri in 11 colonne mostra tutti i regnanti dell'antico Egitto nove colonne mostrano regnanti in Egitto da 5.000 anni fa l'ultima fase è la terza egipciano faraoni egizi definivano loro stessi figli degli dèi e regnavano per due anni come il re Tutankhamon 267 a 67 anni come Ramesset II ma la fase precedente era la fase dei semi dèi ogni re in quel periodo regnava in Egitto per due o trecento anni e la fase ancora precedente era la fase degli dèi che scesero dal cielo e regnavano in Egitto per mille anni ciascuno e questo successe 41.000 anni fa seconda e terza fase 36.000 anni fa quindi qui ha costruito in realtà le piramidi egizie c'è una conoscenza avanzata chi ha formato costruito e messo in piedi e spostato l'obelisco di Luxor il tempo di Abu Simbel Abidov Dandera Abidov Dandera not slaves in Egitto they are telling us not slaves non c'erano schiavi in Egitto they are telling us 100.000 schiavi built Chaos Pyramid at the peak of Egyptian civilizations al culmine della civiltà egiziana durante il regno di Ramsette II l'esercito maggiore più grande che aveva quando combatté contro il regno Etita erano 20.000 soldati dove sono quindi queste centinaia di migliaia di schiavi un documento ancora più importante è si trova ancora più a Est la lista dei re Sumeri sono incisi i nomi di tutti i regnanti di Sumer e questi sono artefatti i primi re di Sumer discesero sulla terra 273.000 anni fa e in media ognuno di loro regnò in Sumer per 30.000 anni fino a 32.000 anni fa è successo qualcosa questi regnanti se ne andarono dal punto di vista geologico questo era il periodo di enormi catastrofi su questo pianeta e poi vennero gli dei minori 23 re regnarono per 24.000 anni mille anni ciascuno e corrisponde alla durata dei regni in Egitto semi dei quindi 8.000 anni fa i figli degli dei i figli degli dei in Egitto la storia è diversa da come ce la raccontano 224 piramidi in Nubia 43 piramidi in Sicilia non sappiamo né chi né quando 104 piramidi nelle isole Canarie la comunità scientifica spagnola sostiene che questi sono accumuli di rocce fatti dai contadini locali quando stavano ripulendo il terreno nelle isole Mauritius sette piramidi in mezzo all'oceano indiano quando ho steso il mio rapporto scientifico e l'ho mandato al governo di Mauritius suggerì che dovessimo fare delle ricerche coordinate e mi risposero Dottor Osmanagic non abbiamo piramidi sono soltanto cumuli di pietre fatti da contadini quando stavano ripulendo il terreno dalle rocce per piantare la canna da zucchero quindi a chi dobbiamo credere? ai governi o ai nostri occhi? la civiltà Maya ha costruito più di 100.000 piramidi il 95% delle quali sono ancora nella giungla questa è a Tical nel nord del Guatemala è considerata la più grande ma nel 1979 una nuova città Maya è stata scoperta la città di El Mirador la piramide più grande è ricoperta dalla foresta se fosse ripulita avrebbe questo aspetto cosa sappiamo se il 95% è ancora nella giungla cosa possiamo pensare di sapere sulla civiltà Maya se il 95% è ancora sommerso nella giungla Palenche 25 bellissime piramidi ancora alla luce piramidi a gradoni ma ufficialmente avevano 1209 piramidi e la più grande è ancora ricoperta dalla boscaglia ed è la più antica e questo non torna con la teoria dell'evoluzione che ci insegnano in realtà le piramidi più grandi e quelle più elevate più superiori sono in realtà le più antiche le piramidi nel ovest dell'Honduras nella città di Copan 1979 l'archeologi dell'Honduras e degli Stati Uniti ripulendo le piramidi dagli alberi che stavano danneggiando le gradonate scoprirono all'interno della piramide più grande un tempio 700 anni più vecchio della piramide stessa che chiamarono Tempio di Rosalila le piramidi in Peru ce ne sono più di 300 la piramide di Cavaci nel sud italiani archeologi scoprirono le piramide fu scoperta e ripulita da archeologi italiani ero lì 12 anni fa in quel periodo ne scoprirono tre 10 anni fa adesso parlano di 34 piramidi a Tucumé nel nord del Perù ci sono più di 200 piramidi oggi a causa dell'erosione non sembrano più delle piramidi ma quando si comincia a rimuovere la sabbia del deserto si trovano muri fatte di mattoni adobe l'erosione verticale è data da piogge prolungate ma qui per 7000 anni il climato è stato il stesso ma qui per 7000 anni il clima è sempre stato lo stesso asciutto sforgiato è un deserto quindi quando ci furono quelle piogge 8000 anni fa 15000 anni fa e quando furono costruite queste piramidi anche prima di allora le piramidi hanno cambiato la storia di molti paesi le piramidi cambiano la storia di molti paesi la piramide del sole in Perù nord-est in Perù è la piramide più grande in Sud-America 150 milioni di mattoni la piramide è di fronte 150 milioni di mattoni secondo gli archeologi ci vogliono 20.000 persone 200 anni per costruire questo complesso Per 20.000 persone ci vuole una città intera e ci vogliono altre 100.000 persone che li aiutino e li supportino per vivere decine di migliaia di edifici dopo 50 anni di ricerca hanno trovato soltanto due abitazioni le piramidi in Bolivia il complesso di Acapana granite blocchi di granito è il materiale più duro più resistente oggi per tagliarlo usiamo strumenti con il diamante hanno delle superfici che sembrano perfettamente lisce tagliate con il laser e sembrano tagliate a macchina secondo il dottor Bosansky ha un'età di 15.000 anni poteva avere strumenti con diamante laser e macchinari 15.000 anni fa tre piramidi a Tula sulla sommità di una di queste ci sono otto colonne di pietra i toltechi li chiamavano Atlantidi e sostenevano che fossero venuti dall'est dalla terra russa ad est del Messico c'è l'oceano Atlantico quindi dal centro dell'oceano Atlantico fino a 12.000 anni fa c'era un'enorme isola 500 km per 200 km che sprofondò dopo la fine della seconda era glaciale questa è la piramide di Kukulkan in Cicenizza 4 serie di gradoni 91 gradini per 4 lati 364 con la piattaforma sulla sommità diventano 365 che è il numero dei giorni nel nostro calendario solare c'è molta conoscenza astronomica incorporata in questa piramide una piramide simile è quella in Cambogia Koh Ker quattro lati è un orientamento perfetto nord-est nord-sud-est-ovest dicono ufficialmente che risalga all'undicesimo secolo a quel tempo non avevano né la tecnologia né le capacità ingegneristiche per costruire qualcosa del genere 250 piramide in central Chinese province of Shanxi 250 piramidi nella provincia cinese centrale di Shanxi tutte ricoperte di terreno e dopo il 1967 hanno piantato degli alberi gli archeologi cinesi hanno scoperto delle tavolette d'argilla con scritte in geroglifico che sono state parzialmente decifrate e sembra che fossero oltre 12.000 anni avessero oltre 12.000 anni di età dopo un accidente cosmico quando la nave spaziale non poteva essere più riparata dovessero rimanere in questo pianeta su questo pianeta e continuarono la tradizione gli archeologi mi hanno confermato di non riuscire a ottenere il permesso di riportare alla luce queste strutture per un'altra generazione 25-30 anni come mai? perché il governo comunista non è pronto ad accettare un cambiamento della storia questo è l'aspetto della piramide messicana più famosa la piramide del sole a Teotihuacan 160 anni fa ricoperta di terreno e di boscaglia ci sono voluti 75 anni per portarla completamente alla luce e questo è quello come appare oggi quando si guarda dalla base si osservano le persone che salgono fino alla cima ci si rende conto quanto diventino piccole sembra che i costruttori volessero raggiungere il cielo e in realtà è impressionante sono 75 metri la piramide di Cheop è esattamente alta il doppio il numero pi nella piramide di Cheope e qui abbiamo la radice quadrata del numero pi 231 metri di lunghezza il lato della piramide di Cheope 231 metri di lunghezza la piramide del sole le tre piramidi del plateau di Giza Cheops Chefren e Micerino e ci sono tre piramidi maggiori qui il sole la luna e la disposizione di queste tre piramidi è esattamente la stessa ci dicono che non c'era comunicazione tra i vari continenti migliaia di anni fa e qui possiamo vedere la firma dello stesso architetto quasi tutto quello che ci insegnano sulla storia antica è sbagliato negli Stati Uniti ci sono piramidi ma non ci dicono che ci sono più di 250 piramidi in origine in un Stato di Illinois in origine c'erano più di 250 piramidi nello Stato dell'Illinois oggi ne sono rimaste 120 nel Parco Nazionale di Cahokia li chiamano Cahokia Mounds Mound è un cumulo di terra ci sono in realtà quattro tipi diversi di materiali di costruzione ci sono blocchi di arenaria ci sono rocce ghiaia sabbia e quando hanno completato la struttura hanno tagliato un quadrato con terra e erba lo hanno rivoltato e hanno ricoperto queste strutture la più grande si chiama il Monk's Mound è il 12% più grande come superficie della piramide di Cahokia si va al museo di questo sito non si vede niente altro che indiani mezzi nudi che vengono mostrati come i costruttori ma gli indiani americani non hanno mai costruito piramidi o strutture permanenti di grande ampiezza neanche i bianchi europei hanno costruito mai piramidi quindi chi lo ha fatto? dobbiamo cambiare la storia d'America quando il diciannovesimo secolo fu istituito l'istituto smithsonian l'obiettivo primario era quello di distruggere tutti i mounds e nascondere tutto il materiale archeologico parlando degli Stati Uniti la civiltà misteriosa degli Anasazi fece la sua apparizione nella parte a sud nel New Messico Utah Colorado e Arizona apparirono nel decimo secolo 350 anni dopo erano scomparsi senza lasciare traccia Gli indiani, Hopi e Pueblo sostengono di essere i loro discendenti ma non è vero ma in realtà utilizzarono soltanto parte della conoscenza degli Anasazi nel Chaco Canyon nel Nuovo Messico possiamo vedere le rovine della città più bella che gli Anasazi avessero costruito è chiamato Pueblo Bonito Pueblo Bonito è un complesso costituito da 700 ambienti Kivas per le attività spirituali e proiezioni astrali da Pueblo Bonito partono una serie di strade che sono perfettamente dritte c'è un canyon quindi le strade passano attraverso il canyon e continuano dritto salgono lungo le rocce passano gli altipiani e continuano non esiste una spiegazione razionale del perché e come furono costruite queste strade eccetto in un libro le piramidi di Israele non ci dicono niente non ci insegnano niente questa aveva in origine 11 gradoni ho calcolato 2.000 tonne di materiale ho calcolato 2.000 tonnellate di materiale orientamento perfetto tunnel sotterranei quindi ci sono così tante piramidi sul pianeta abbiamo bisogno di una definizione scientifica per le piramidi le favole da bambini per delle piramidi come tombe come tombe dei faraoni è un fatto del passato tra 50 anni la gente riderà di noi e di quello in cui abbiamo creduto in Bosnia abbiamo scoperto una serie di criteri scientifici per definire le piramidi numero uno la geometria la piramide deve avere una forma geometrica per il nostro pianeta la forma piramidale più forte più potente è quella della piramide a quattro lati in aprile del 2005 arrivai per la prima volta nella città bosniaca di Visoko per visitare il museo locale e quindi vidi questo avevo fatto ricerca sulle piramidi in tutto il pianeta per 25 anni prima di allora avevo preso un PhD sulle piramidi maia del Centro America quindi la foresta la boscaglia e il terreno che la ricoprivano non mi hanno ingannato stavo osservando primo secondo terzo quarto quarto quattro facce quattro facce triangolari spigoli la stessa inclinazione dalla base alla sommità geometricamente questa è una piramide ho preso la bussola mi ha mostrato il nord perfettamente il sud l'est e l'ovest per me non c'erano dubbi questa era una struttura artificiale che dopo migliaia di anni era stata ricoperta di terreno e di vegetazione abbiamo cominciato a scavare questo è lo spigolo nord-est sotto un metro di terreno il secondo elemento materiali da costruzione artificiali dovunque indagassimo e scavassimo trovavamo un materiale da costruzione duro resistente un metro sotto il terreno sotto la superficie del terreno blocchi rettangolari una fila un secondo strato un terzo strato un quarto strato abbiamo preso dei campioni e li abbiamo fatti analizzare da sette istituti di analisi diversi e ci hanno detto che era calcestruzzo qualcuno lo chiamano geopolimer qualcuno lo chiamano calcestruzzo geopolimerico qualcuno lo chiamano sintetico il nostro calcestruzzo quando si parla di durezza ha normalmente una durezza da 10 megapascal a 60 megapascal 60 è la qualità migliore è il calcestruzzo tedesco e negli Stati Uniti questo calcestruzzo va da 73 a 134 megapascal è la migliore qualità in assoluto fino ad ora abbiamo portato alla luce migliaia di tonnellate di calcestruzzo noi usiamo il cemento come materiale elegante e invece qui è stata usata argilla fusa oggi non fondiamo l'argilla magari dovremmo farlo oggi abbiamo la piramide verde ma se solo cambiamo il colore da verde al colore del calcestruzzo possiamo vedere quello che potrebbe essere l'originale aspetto della piramide il terzo elemento l'orientamento dei lati le piramidi in Cina Egitto e Perù sono orientate verso il nord la piramide di Cheop ha un errore dal nord la piramide di Cheop è un errore dal nord di zero gradi e tre primi Kefren da zero gradi a tre primi Micerino da zero a diciotto la piramide del sole in Bosnia zero gradi zero primi dodici secondi l'orientamento più preciso in assoluto l'elemento successivo sono i passaggi interni e le camere sotterranei lo scanning geofisico della piramide ha mostrato cosa c'è all'interno ci sono sette livelli di passaggi che qui sono mostrati in diversi colori a seconda della profondità il bianco è dieci metri di profondità il blu 40 metri sono disposti a spirale il quinto elemento tunnel sotterranei sotto le piramide di Giza ci sono tre livelli di tunnel non se ne parla in pubblico sotto la piramide di Sakkara in Egitto decine di chilometri di tunnel non è aperto al pubblico sotto la piramide non dentro la piramide in Cina ci sono tunnel in Cina ci sono tunnel non sono aperti al pubblico in Bosnia c'è la rete di tunnel sotterranei più estesa è aperta al pubblico e c'è una differenza tra i siti condotti dal governo Egitto, Messico, Perù e Cina e i siti non-government che non-archeologici e i siti archeologici che non sono condotti dal governo quanti di voi hanno visitato i tunnel in Bosnia? ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circa 20 ok 5% 5% elemento numero 6 l'acqua i fiumi importanti sono sempre necessari per le piramidi in Bosnia ne abbiamo due molti altri corsi d'acqua sono sotterranei la geometria sacra il settimo elemento se colleghiamo la sommità della piramide del sole con la sommità della piramide della luna c'è 2180 metri dalla piramide della luna della piramide del dago 2180 2180 torniamo alla piramide del sole c'è la stessa dimensione 2180 equilatero una forma geometrica parte della geometria sacra la geometria sacra rappresenta il movimento di energia il triangolo verde mostra il collegamento tra la sommità delle piramidi il rosso la sommità della piramide dell'amore del tempio di madre terra dei tunnel e dei fiumi un triangolo all'interno di un triangolo anche questa geometria sacra l'ottavo elemento sono le caratteristiche astronomiche l'ombra della piramide del sole a metà estate la piramide al tramonto l'ombra della piramide del sole copre completamente la piramide della luna e la sommità dell'ombra coincide con la sommità della piramide della luna nono punto il luogo la localizzazione sotto la piramide del sole facciamo sapere l'abbiamo misurata alla base e alla sommità qui è 50 volte più forte la seconda forma di energia 21 metri sotto le piramide c'è un corso d'acqua sotterraneo il movimento dell'acqua genera il rilascio di ioni negative la piramide aumenta la concentrazione di ioni negative 55 metri sotto la piramide c'è un altro corso di acqua e tra questi due si genera l'elettricità durante gli scavi archeologici abbiamo scoperto molti cristalli di quarzo e diorite che è per il 50% cristallo 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 ha la capacità di trasformare l'energia e il cristallo ha la capacità di trasformare l'energia elettromagnetismo attraverso un effetto piezoelettrico si trasforma in ultrasuoni che abbiamo misurato una frequenza di 28 kHz l'energia vitale o organica in questa sala ne abbiamo circa il 20% di energia vitale all'esterno circa il 30% in città 50% nei villaggi paesi intorno sulle piramidi bosnia che nei tunnel in bosnia 100% le piramidi amplificano l'energia il decimo punto sono le linee vulcaniche se colleghiamo due vulcani abbiamo una linea vulcanica se alla fine di questa linea abbiamo una piramide possiamo dire che questa piramide siede su una linea vulcanica abbiamo analizzato 75 piramidi e siti megalitici nel mondo sono tutti situati su intersezioni di linee vulcaniche Cholula la piramide più grande del Messico è all'intersezione di 15 linee vulcaniche Machu Picchu 16 linee vulcaniche le piramidi bosniache 26 linee vulcaniche perché questo è importante perché questo è importante il vulcano lava c'è la lava iron c'è ferro minerali energia le linee croazia Serbia Montenegro Montenegro Bosnia Bosnia che è un paese a forma di cuore le linee rosse sono le ley lines molte di queste si intersecano proprio qui blow it up questo è Sarajevo e questo è Visoko la valle delle piramidi bosniache gli antichi erano intelligenti la posizione numero 12 fenomeni energetici possono essere filmati il dottor Harry Oldfield non mai scomparso ha sviluppato una particolare fotocamera per filmare le linee energetiche in un ambiente naturale queste linee sono sempre orizzontali questa è una collina naturale con una forma puntita in Bosnia e sopra vedete che ci sono delle linee orizzontali diversi colori verde blu rosso che si alternano questo è un villaggio in Serbia linee orizzontali verde blu rosso verde blu rosso il mio posto favorito negli Stati Uniti è Sedona la red rock bell rock this is bell rock again horizontal lines di nuovo linee orizzontali blu red or brown green and so on this is a natural ambient this is a road between Aswan and Abu Simbel look all horizontal energy lines tutte linee orizzontali the Germans are saying there is a pyramid in southern Germany i tedeschi dicono che nel sud della Germania c'è una piramide ma ci sono linee orizzontali the bosnian piramide del sole in Bosnia vertical lines everything is upside down in Bosnia tutto è sottosopra in Bosnia the year is 2015 2007 bosnian piramide 2007 linee verticali sulla piramide del sole vediamo perché la città di Visoko in basso la piramide il rosso è il colore dell'energia che si accumula verso la cima ora tutto diventa rosso l'energia passa attraverso la cima colpisce le linee orizzontali che diventano verticali quindi le energie si possono muovere senza ostacolo quindi la piramide genera dell'energia che passa attraverso la sommità visto che avete parlato di UFO prima della mia presentazione vediamolo di nuovo questa videocamera può filmare quello che i nostri occhi non vedono guardiamo qui abbiamo un segnale termico una firma termica diversa da tutto il resto ed è ovale di forma ovale vediamo dove va scende scende e nello stesso tempo la piramide si riempie di energia eccolo qua andiamo indietro è stata riempita a fatto benzina e poi andiamo indietro panoramica questa è una foto panoramica visoco orizzontali piramide del sole linee verticali questa è che piramide è? in Egipto che una? Kefren esatto la seconda più grande ricordate alla cima abbiamo rimanenti del limestone nice blocks la piramide di Kefren la seconda più grande abbiamo sulla sommità ci sono ancora resti del ho filmato questo dicembre scorso sono stato il primo a dare una prova del fatto che anche la piramide di Kefren è una macchina di energia una macchina di energia attiva dopo questa serie di criteri scientifici possiamo dare una nuova definizione al termine piramide è molto semplice le piramidi sono macchine di energia due geofisici russi ancora in vita sono arrivati con tutto il loro equipaggiamento di misurazione e hanno concluso che le piramidi bosniache equivalgono alle piramidi egiziane in forma e in valori sismici ci sono tunnel 280 metri sotto la piramide abbiamo applicato la tecnologia LIDAR la piramide del sole da questo punto è alta 220 metri cheope 147 questa è già la più grande del pianeta ma la tecnologia LIDAR è come laser che va all'interno l'interno ma la tecnologia LIDAR è una sorta di raggio laser che va al di sotto della vegetazione quindi senza terreno e senza vegetazione sopra in realtà la piramide è alta 370 metri e questa è scienza cosa dice il mondo delle piramidi bosniache ripedia le piramide sono pseudo archeologiche le piramidi bosniache sono una sorta di diciamo pretesa pseudo archeologica sono formazioni naturali perché gli scienziati hanno concluso così e ci chiamano una crudele frode vediamo gli scienziati il dottor Hawass non è mai venuto in Bosnia ma ha detto che nessuno poteva muovere 40 tonnellate di calcestruzzo in Bosnia e Osmanagic è allucinato dr. Mike Havert il direttore del Council for British Archeology professor Partzinger il presidente del German Archeological Institute è una frode non è mai venuto in Bosnia il ricercatore indipendente Robert Shock nessuna piramide dice che io ho iniziato questo ho dato il via questo progetto a causa del mio futuro coinvolgimento in politica questo era 13 anni fa e ancora non sono in politica il progetto era un fiasco bene questo fiasco è diventato il progetto il sito archeologico più attivo al mondo centinaia di volontari da tutto il mondo e sono così orgoglioso che alcuni ci siano qui stasera con noi grazie Andrew Collins non è mai venuto in Bosnia sono scettico David Hatcher non sono convinto David Hatcher il più intelligente di questa generazione Graham Hancock non ci sono prove evidenti di una civiltà perduta probabilmente ha ragione perché non è più persa il dottor Stewart dell'università del Michigan non è mai venuto in Bosnia lui e il suo gruppo hanno scolpito i lati di queste colline naturali per farlo diventare qualcosa che loro pensano possano sembrare le piramidi la piramide del sole è 20 volte più grande della piramide la piramide del sole ha un volume 20 volte più grande della piramide di Cheope quindi quando l'ha scolpita? quante migliaia di lavoratori ha ingaggiato di notte quando nessuno guardava cosa c'è che non va con questa gente? non sono venute e anche se vengono non prendono campioni per fare delle analisi non fanno analisi non fanno datazione nel radiocarbonio non fanno misurazioni di energia non sono scienziati danno la loro opinione le opinioni sono irrelevanti in scienza tutto l'establishment culturale bosniaco era contro di noi archeologi geologi historici antropologi european archeologico le associazioni le associazioni di archeologi europei i professori anglosi e americani gli egittologi più influenti quindi che cosa fai quando sono tutti contro di te? anche abbiamo contro anche il governo bosniaco 99% delle persone si arrenderebbe ma non si può arrenderci e abbandonare i nostri nobili principi e scopi i nostri argomenti scientifici i nostri sogni non abbiamo mai mollato abbiamo continuato a lavorare a portare volontari per tre anni senza permessi non ditelo a nessuno la piramide della luna con dei blocchi molto belli con delle forme molto ben delineate 190 metri più grande anche questa della piramide di Cheope guardiamo l'età è ricoperta le piramidi sono ricoperte dal terreno l'istituto di pedologia ha datato il sedimento dello stato sulle piramidi a 12.000 15.000 anni fa la struttura sottostante è ancora più vecchia sotto i blocchi di calcestruzzo abbiamo scoperto abbiamo scoperto del materiale organico foglie fossilizzate erano tra due strati di calcestruzzo quindi devono essere finite lì durante la fase di costruzione abbiamo fatto la datazione a radiocarbonio 29.200 anni più o meno 400 anni andiamo indietro nel tempo di 30.000 anni e questo cambia tutto la storia della civiltà è decine e decine di migliaia di anni cosa accadeva allora decine di migliaia di anni fa secondo gli archeologi niente c'erano gli uomini primitivi che vivevano le caverne i monumenti di Yonaguni sul fondo dell'oceano pacifico strutture megalitiche con gradoni con dei templi sulla sommità con blocchi a semicerti i archeologi giapponesi dicono che tutto questo è naturale i corsi d'acqua hanno fatto questo ed erano naturalmente sostenuti dal German Archaeological Institute che attaccò anche me e dai professori americani perché? perché ha più di 12.000 anni Gobekli Tepe, Insta, Turkey Gobekli Tepe nella Turchia secondo la datazione a radiocarbonio 13.600 anni ma il dottor Klaus Schmidt ormai è scomparso mi ha detto da 15.000 a 18.000 anni ma non era autorizzato a dirlo Wikipedia 11.600 prima del paleolitico vogliono ottenere tutto neolitico questo è uno dei cerchi megalitici ce ne sono 100 ce ne sono 100 e non esiste una singola abitazione e non esiste una singola abitazione gli archeologi gli archeologi non possono aiutarci nessuno ci insegna niente sul vero scopo delle piramidi abbiamo bisogno di scienziati e di strumentazione scientifica un fisico da Zagreb in Croazia ha misurato alla sommità della piramide del Sole un campo elettromagnetico un raggio di 4,5 metri una frequenza di 28 kHz al di là di questo raggio di 4,5 metri non si rilevava niente si tornava all'interno e di nuovo si trova questa frequenza ma non va né a destra né a sinistra è rivolta verso l'alto questi sono gli strumenti per misurare l'elettromagnetismo Goran Marjanovic ingegnere serbo venne con i suoi strumenti e ha confermato i 28 kHz e questi sono gli strumenti che lui ha utilizzato un ingegnere del suono un ingegnere del suono dalla Finlandia Paolo de Bertolis dell'Università di Trieste hanno tutti confermato i 28 kHz quando in scienza si hanno quattro team di ricercatori che vengono per verificare in quattro volte diverse con il proprio equipaggiamento e tutti ottengono lo stesso risultato e questo viene definito una verifica scientifica indipendente del fenomeno del fenomeno quale fenomeno? questo è il raggio di energia che passa attraverso la sommità della piramide del Sole concentrato, continuo ma madre natura non fa delle colline con quattro lati facce triangolari calcestruzzo passaggio interno tunnel sotterraneo e un raggio di energia come questo questa non è soltanto la piramide più grande del pianeta ma la più antica macchina di energia che ha continuato a lavorare ininterrottamente per 30.000 anni abbiamo misurato l'ampiezza e la potenza del segnale dal livello più basso la frequenza è 28 kHz 1.9 V 3 metri più in alto 3.9 V man mano che si saliva il segnale diventava più forte non è logico ma niente è logico in Bosnia questo è un tipo di fenomeno non-erziano oggi non abbiamo questa tecnologia ma un tizio che era nato 200 km più a est stava facendo esperimenti con questo tipo di tecnologia 120 anni fa nel suo laboratorio a Colorado Springs e il suo nome era Nikola Tesla ha inventato quello che oggi si chiama bobina Tesla che mandava raggi di energia senza conduttori e era in grado di portare le lampadine a 8 metri di distanza e proprio prima che mandassero a fuoco il suo laboratorio perché stava diventando un pericolo per la scienza convenzionale e gli fece l'ultimo esperimento mandò un raggio di energia nell'ionosfera attorno al nostro pianeta questo venne riflesso ritornò sempre più potente fenomeno non-erziano e l'accese le luci in 10.000 case a Colorado Springs per la prima volta uno scienziato dimostrò che l'energia libera e gratuita era possibile che era possibile avere una quantità illimitata di energia che erano possibili fenomeni non-erziani che era possibile il trasporto di energia senza fili e che l'energia libera e gratuita era possibile potevano le corporazioni americane potenti accettare questa invenzione? certamente no come poteva il miliardario JP Morgan vendere l'energia libera e fare soldi? e invece tagliò i fondi a Tesla investì con il suo collega miliardario alla tecnologia inferiore di Edison per costruire centrali elettriche idrotermiche molto più costose per spostare e trasportare l'energia verso cavi perdendo il 20-30% dell'energia a lungo il percorso per venderla a noi, utilizzatori finali per un sacco di soldi e questa è l'economia del profitto dove meno dell'1% possiede più del 90% delle risorse del pianeta e più del 90% di noi si affanna nella vita di tutti i giorni ma verrà il giorno quando l'energia libera diventerà disponibile per tutti quanti noi e questo sarà il primo pilastro di una società libera e il secondo pilastro sarà la libera circolazione di informazioni di conoscenza e sulla base di questi due pilastri avremo una società di donne libere e di uomini liberi Amen Tesla costruì la Wardenclyffe Tower dopo pochi esperimenti disse che aveva trovato il modo di mandare una quantità illimitata di energia migliaia di cavalli vapore da un pianeta a un altro indipendentemente da quale fosse la distanza e la frequenza che stava usando era di 28 kHz la stessa che abbiamo misurato alla sommità della piramide del Sole questo è un raggio di energia attraverso una piramide in Messico la piramide della Luna più attiva e tutte piramidi molto attive Paolo de Bertolis ha fatto una lettura registrazione degli ultrasuoni del raggio di energia in Bosnia 28 kHz 28 kHz l'ha convertita in qualcosa che possiamo sentire 8 kHz l'ha convertita in 8 kHz che è qualcosa che noi possiamo sentire e questo è come parla la piramide del Sole che si fa l'ha convertita in 5 minuti in 55 minuti? Ok, let me go real quick. Abbiamo utilizzato un drone con sette strumentazioni diverse. Il campo va a questo andamento. 4,5 metri 20 metri 4,5 20 4,5 Per i fisici non c'è alcun dubbio queste sono onde scalari che viaggiano molto più veloci della luce. E la direzione delle onde scalari nel pomeriggio è più diretta verso sud-ovest la posizione del sole. Il mattino è un po' più verso est le onde scalari seguono il percorso del sole. questo non vuol forse dire che il nostro pianeta attraverso le onde scalari che comunica col sole e con altri sistemi solari attraverso il sole e altre galassie e la risposta è sì è un internet cosmico copyright Il primo uso dell'energia delle piramidi è un mezzo di comunicazione quindi ci sono volute due ore per dirvi il primo uso dell'energia ok, io andrò molto breve nei tunnel sotterranei in Bosnia ci sono i resti di due civiltà blocchi di ceramica possiamo sentire l'energia e sviluppare i nostri sensi spirituali nei tunnel abbiamo notato che chiunque entra nei tunnel respira molto meglio persone con l'asma dopo che si è tornato per tre o sei mesi non hanno più bisogno di usili per respirare questa ragazza dalla Slovacchia aveva una capacità polmonare del 47% venne ai tunnel per una settimana due volte al giorno e la sua capacità polmonare è aumentata al 84% è l'energia della piramide il zucchero il glucosio nel sangue 7,8 prima del tunnel è un livello di rischio e dopo il tunnel è ritornato alla normalità 5,1 pressione sanguigna questa signora da 220 su 135 dopo le visite ai tunnel ritorna al livello normale non abbiamo tempo per i video abbiamo dei video questo signore con un tumore alla prostata due mesi di somministrazione di acqua delle piramidi e di ingressi nel tunnel il tumore è scomparso il campo del bioenergetico del corpo ok, voglio mostrare i chakras i chakras che si ingrossano e si bilanciano perché la chiave sono gli ioni negativi in questa conferenza 20 ioni negativi per centimetro cubo a Milano 200 1.000 in montagna nel tunnel 20.000 40.000 non ci sono radiazioni cosmiche non c'è radioattività c'è la risonanza Schumann originale non c'è segnale per i cellulari neanche per il wifi all'interno dei tunnel ha inizio il processo di rigenerazione probabilmente si spiega il caso della settimana scorsa questa signora molto carina di 84 anni è venuta a trovarci nei tunnel ci è rimasta un'ora e poi è uscita grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.